Nuovi acrilici su Arte per Te Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per Te Oggi un video prova di alcuni acrilici che ho comprato Recentemente per questioni di lavoro mi servivano degli acrilici in una quantità abbastanza copiosa ho guardato su internet quelli con un rapporto qualità prezzo più conveniente ho preso e sono risultati essere gli studio acrylics high viscosity della Pebeo questi qua ho preso i vasetti da 500 ml e adesso li andremo a provare insieme io ho preso i tre primari, due nella qualità opaco e sono l'acrilico blu ciano il giallo primario mentre uno l'ho preso in qualità trasparente ed è il rosso magenta come bianco e nero ho preso l'immancabile bianco titanio sempre opaco e ho cambiato il tipo di nero, io di solito compro un nero avorio questa volta non essendoci in gamma il nero avorio ho preso sempre opaco il nero di Marte e allora senza cincischiare oltre spostiamoci sul piano da lavoro e andiamo a vedere come rendono i nostri colori acrilici della Pebeo ed ecco qua i nostri colori acrilici studio della Pebeo alta viscosità, andiamo a vedere le caratteristiche tecniche questo mi è arrivato un po' ammaccato io li ho acquistati su Amazon e hanno tutti un costo medio di 16,50 euro diciamo così, ce n'è forse uno che costa sui 17 euro ma adesso non ricordo e arrivano a casa senza spese di spedizione aggiuntive quindi io li ho trovati molto convenienti perché tutti gli altri brand di acrilici avevano almeno spese di spedizione di 7 euro e non so quanto costino presso i negozianti perché non mi sono informata ho preso i tre colori primari quindi il giallo primario, il rosso magenta primario e il blu ciano primario il bianco di titanio perché è inutile prendere qualunque altro tipo di bianco con gli acrilici andate sempre sul bianco di titanio e purtroppo non ho trovato il nero avorio che è il mio preferito ma ho preso il nero di Marte che è un nero vedremo che tende leggermente sul rosso ma io nero ad acrilico ne ho anche di altre marche quindi non mi sono fatta tanti problemi tanto avere una tonalità un po' differente di nero può essere soltanto un quid in più andiamoli a provare anzi andiamo a vedere le etichette oramai vi ho insegnato come si leggono vediamo cosa ci dice il vasetto innanzitutto alla certificazione ACMI che è una certificazione qualitativa dei colori è una certificazione americana che indica che il colore è fatto seguendo determinati parametri è un giallo primario opaco il numero in loro gamma è il 48 ha tre stelline quindi una massima resistenza alla luce il pigmento white 6 più il pigmento yellow 74 ed è come vedete un colore coprente dal quadratino anche il 26 è un colore coprente si chiama noir de main nero di Marte è un tre stelline quindi resistente alla luce pigmento black 7 e pigmento black 11 attiene soltanto alla famiglia dei neri mentre il blu ciano anche lui coprente 48 è un primario anche lui tre stelline resistente alla luce pigmento white 6 più pigmento blu 15 su 3 quindi è un frammisto e adesso vediamo un altro colore il magenta l'ho preso trasparente così vedremo anche la differenza tra i trasparenti e gli opachi è un magenta primario anche qui ha due stelline di resistenza i trasparenti sono meno resistenti alla luce pigmento violet, pigmento red quindi pigmento primario e per ultimo l'opaco bianco titanio che contiene pigmento white numero 6 tre stelline di resistenza alla luce proviamoli subito allora la carta che uso è un blocco accademia della Fabriano è un pennello 16 tintoretto sintetico smeraldo uso il pennello piatto perché lo stira meglio il colore naturalmente il bianco non lo userò su una carta bianca ma adesso vedrò di trovare una carta colorata per usarlo e in questo caso magari userò una carta nera è da pastello ma non importa sempre della Fabriano e cominciamo con proprio il rosso trasparente io allora questi prodotti hanno sia l'apertura beccuccio quindi molto comoda per un'erogazione un po' come dire parca che invece hanno anche la possibilità di essere aperti così al vasetto o come dico io alla buona cominciamo vedete che è un colore trasparente si continua a vedere il foglio al di sotto devo dire pur essendo un colore trasparente ha una buonissima pigmentazione perché per essere un trasparente il grado di coloritura è veramente veramente alto proviamo il blu immergo il mio pennellino devo dire che non trovo un'enorme differenza tra l'opaco e il trasparente perché anche il trasparente lo trovo super super pigmentato l'opaco sicuramente come vedete ha una copertura più profonda non lascia intravedere il foglio ma il trasparente si sta comportando pure molto bene proviamo il giallo dico si sta comportando perché lo voglio vedere l'asciugatura ultimata anche il giallo ha una bella coprenza il foglio scompare subito sotto il passaggio e devo dire che è un bel giallo proviamo adesso il nero di marte vedete si è nero ma non è nerissimo ha un sottotono non so se riuscite a vederlo rosso ma comunque ad occhio nudo così ad un occhio un po' più profano il distratto è nero ed è comunque un bellissimo nero proviamo adesso accanto il bianco di titanio il bianco l'unico vero inimitabile per me non esiste altro bianco quando voglio il bianco ok buona carica coprente buona pigmentazione riesce totalmente ad annullare il nero ora asciugandosi diventerà ancora più bianco accelero l'asciugatura per arrivare a tono desiderato di questo io ne necessito di due passate voilà vedete adesso è assolutamente bianco e la stessa cosa vale anche per il rosso solo che il rosso è trasparente quindi ci sta che due tre passate mi occorrano per arrivare a un tono più coprente cioè per giungere a una pigmentazione più satura voilà ci siamo e rimane comunque vero sempre trasparente diciamo che la luce della pagina incide notevolmente ce ne accorgiamo che i toni sono più trasparenti quando li utilizziamo su supporti colorati guardate vedete non riesce a non fare trasparire il nero della pagina mentre un rosso solitamente opaco non trasparente dovrebbe camuffare maggiormente il nero della pagina guardate vi faccio vedere col giallo che è un altro colore chiaro per farvi rendere conto di cosa sia l'opacità vedete il giallo quanto riesce invece a camuffare il fondo si non lo copre completamente perché naturalmente è un fondo nero è il più tenace però sicuramente riflette molto di più che non il rosso trasparente e la stessa cosa varrà anche per il blu il colore trasparente o opaco si rivela molto di più su superfici colorate che non su superfici bianche perché su superfici bianche prende sopravvento la pigmentazione del colore e quindi comunque si rende sempre palese su superfici colorate invece non riesce a vincere la pigmentazione del supporto e quindi vela ma non copre ma adesso abbiamo i tre primari e volete che io non mi inerpichi nella miscelazione dei colori allora innanzitutto facciamo una scala di toni che ne pensate prendo un puntino di rosso e un puntino di bianco e mescolo e vediamo al 50% come si presenta il colore che significa il 50% come lo trovereste in cartella colori 50% rosso 50% bianco bellissimo basta miscelarlo col bianco il rosso perde la trasparenza perché acquisisce l'opacità del bianco non ci credete? guardate ve lo faccio vedere sul supporto nero quanto diventa più coprente del suo fratellino in purezza perché il bianco trasferisce la carica di opacità al pigmento rosso che colorerà anche il pigmento bianco e voilà visto quanto è più evidente per adesso schiariamoli tutti adesso prendo pigmento bianco e pigmento blu il blu ciano è un blu che vira molto poco all'aggiunta di colore vi faccio vedere cambia perché sicuramente si illumina ma mantiene la stessa familiarità molto in maniera molto intensa vediamola adesso nel foglio nero spero riusciate a vederlo e voilà bellissimo e adesso facciamo bianco e giallo e adesso faccio il grigio al 50% ne faccio una doppia quantità perché lo metterò sia accanto al bianco che accanto al nero ora dedichiamoci un po' a fare le miscele di colori dai primari andiamo verso tutti gli altri colori quindi dal giallo muoviamo e facciamo giallo più rosso vediamo cosa esce dovremmo saperlo cosa esce dall'avvio a un bel arancio partiamo di nuovo dal giallo e facciamo giallo più blu a un gran bel verde e adesso andiamo col rosso e uniamo rosso e blu per vedere cosa viene fuori ed ecco il viola ed ecco quindi i secondari e diciamo risultano tutti molto belli e molto vividi quindi per me questi colori sono super approvati i pigmenti non tradiscono l'essenza perché ho voluto fare io questa prova quando compro i nuovi colori la faccio sempre perché ci sono possono esserci all'interno della messica del colore dei pigmenti che tradiscono in realtà la natura della tinta stessa e quindi i secondari non risultano bene in questo caso le tinte sono affidabili quindi ciò che c'è dentro è veramente quello che c'è scritto sulla confezione bene promossi sì rapporto qualità prezzo ottimo mi piacciono sì asciugatura veloce coprenza giusta cioè quelli che dicono di essere coprenti il giallo mi piace tantissimo i secondari tantissimo il blu ciano non è uno dei mie toni preferiti ma mi piace in questa componente anche il rosso è un magenta molto molto bello e le risultanze come vedete anche in palette dei secondari sono ottime quindi colori super super approvati per la prima volta parlo di acrilici pebeo sul canale e li vedrete all'opera molto molto presto le prime impressioni sono ottime vi lascio alle foto e ci vediamo dopo ciao ciao che dire sono molto molto soddisfatta i sample che abbiamo fatto insieme mi hanno lasciata speranzosa nella loro performance devo dire che si comportano molto bene sono dei colori vividi luminosi facili da stendere non troppo compatti sono meno compatti di altri colori che ho usato in passato proprio meno densi però sono altamente come dice la confezione altamente viscosi quindi si stendono bene si fluidificano bene sono secondo me fantastici per la one stroke painting e per la doodle art anche per i puntini perché sono coprenti ma nello stesso tempo abbastanza fluidi non amma pazza insomma mi sono piaciuti mi raccomando il trucchetto sempre è quello di creare i secondari per capire se la composizione dei primari è una buona composizione vi lascio in info box il link da cui ho comperato perché questi prodotti li ho comperati io con i miei soldini se vi può interessare sono degli ottimi prodotti da cui potrete far scaturire un'intera gamma cromatica vi basteranno questi per fare tutti i colori che vi servono bene spero che questo video vi sia stato utile vi sia piaciuto pollice in su e condivisione per farmelo capire come al solito vi ricordo che vi aspetto in libreria con il ricettario dell'arte per crearvi in maniera homemade tutti i colori di cui avete bisogno e allora voi direte ombretta ma allora perché non te li sei fatti tu per il lavoro che devi fare perché per il lavoro che devo fare devo lavorare con cose che possono avere tutti e quindi ho dovuto rivolgermi all'industria del colore se no per un lavoro privato dove nessun altro avrebbe dovuto fare il raffronto con quello che faccio state certi me li sarei fatti da sola gli acrilici e sarebbero venuti comunque benissimo bene vi aspetto quindi in libreria per creare insieme a voi tutti i materiali dell'arte ma soprattutto vi aspetto sempre qua per un prossimo video creativo da ombretta e da arte per te è tutto alla prossima volta ciao ciao